Contrarre il Covid-19 sul proprio posto di lavoro non sarà considerato malattia ma un infortunio. Lo ha precisato il presidente dell'INAIL Franco Bettoni. Le malattie virali come il Covid-19 sono una causa violenta di malattia e pertanto sono riconosciute come infortunio. Se una persona ha contratto il virus sul lavoro e poi è deceduta sarà considerata a tutti gli effetti, ha concluso Bettoni una vittima sul lavoro.